Ciao ragazzi, mi sono svegliata questa mattina, a parte che non ho dormito tutta la notte quindi è proprio da escludere il risveglio dolce e mattutino che ho avuto e poi mi sono svegliata con il fatto che comunque vi dovevo far sapere come mi sono trovata con i prodotti della Kiko, ovvero stanno trapanando io sono destinata ragazzi a fare video con i rumori e con le interrutture avevo fatto il video haul sugli acquisti della nuova collezione Kiko Chic Charlotte quando stavo al paese vi metto il link qui se lo volete vedere, è stato parecchio criticato perché dicono che non ero tanto attiva non ho fatto gli swatch, che praticamente non ho detto più di tanto ho scontato che non avevo tutta questa euforia in corpo pur avendo fatto acquisti perché stavo fuori ronda come faccio a fare una review dettagliata di un prodotto se non l'ho ancora provato terza cosa, vedo di riparare adesso, quindi review di questa collezione è stata per me una sorpresa vedermela perché per essere chiara io questi e questi l'ho fatti prima di partire da Roma, quindi prima di andare al paesello perché dovevo fare un regalo in quanto in mezzo alla settimana mi sarei ritrovata al compleanno di mia cugina visto che con mia cugina ho un bellissimo rapporto, ci tengo tanto a lei mi sono sentita di volergli fare un regalo personale io e quindi io ho regalato un po' di cose della Kiko ma la cosa fantastica è stata che quando sono andata alla Kiko pur sapendo che l'avevano aperta più vicino a casa mia infatti ragazzi, sto nella fase, oddio adesso vado là e la sbaliggio però sto mettendo i soldi da parte e ce la devo fare devo comprare questo nuovo telefono, ce la devo fare prima del 2012 almeno me lo godo per un anno e poi finisce il mondo che vedevo di... sono rimasta alquanto attratta dal fatto che da lontano ho visto questo immenso bancone di 3 miliardi di colori come al solito che fa Kiko e ci sono rimasta quando tra di me ho detto ma che è già uscita la nuova collezione a parte che di questa nuova collezione non si sapeva niente quindi non si sapeva come era fatta non si sapeva quando usciva non si sapeva niente, niente, niente ma la cosa un po' che comunque io penso abbia lasciato sia a me che tante altre persone perché comunque ho visto tanti video di presentazioni di questa collezione che comunque essendo ancora adesso proprio ai primi di settembre è uscita praticamente a metà agosto ma nemmeno anche di più proprio agli inizi di agosto ha lasciato un po' tutti così perché comunque parliamo di una collezione prettamente invernale non estiva quindi anche se alcuni colori sono un po' estivi però messaggio anche l'amore mio ci deve stare di mezzo quindi grazie amore devo dire è una bella collezione presentarla in quel momento è stata veramente secondo me la toppata più grande che Kiko possa aver fatto anche perché i prezzi sono quelli che Kiko mette cioè prezzi che comunque uno dice ma nemmeno morto ti do tutti sti soldi quindi se ce li ho preferisco prendere una o due cosette e poi se tutto va bene me li prendo in saldo quindi secondo me un po' Kiko ha sbagliato a farlo uscire subito però se ha fatto così secondo me per questioni di cose di mercato ragazzi state sicuri che novembre e dicembre ci sarà già un'altra collezione sicura allora iniziamo collezione Chic Shalet la grafica molto bella ovviamente inverno a che cosa si sono ispirati? al legno quindi ci ritroviamo con il packaging del tutto così con queste linee così che ricordano il legno con queste venature così che vanno dal più chiaro al più scuro quindi a sfumare ovviamente questa è la palette degli ombretti e ogni palette ha una sua sfumatura di colori questo il colore deciso è scelto in base agli ombretti che ci stanno all'interno della palette e quindi comunque va a mandare il ricordo al legno molto bella questa cosa ma anche un po' troppo scontata devo dire che ovviamente Kiko si sbizzarisce sempre sui packaging molto belli molto realistici e devo dire che li studia veramente bene io avevo acquistato solo tre cose e già solo quelle cose mi sono venute 25 euro e qualcosa quindi per tre prodotti 25 euro sinceramente è un po' troppo anche perché stiamo parlando di Kiko però vabbè ragazzi ritorniamo ai soliti discorsi collezione nuova prezzi più alti se ti sta bene è bene se no aspetti che mettiamo le cose in saldo e se quando vanno in saldo sei fortunato te le trovi se no tattà iniziamo dal principio quindi il pezzo più forte della collezione quali sono le palette le palette sono fatte in questo modo ve le ritrovate con questa sacchettina io le tengo perché mi piace per la protezione quindi sono fatte in questo modo mi piace molto vi ricordo che ho preso la numero 1 e durano la cosa alquanto io penso strana che durano solo 6 mesi è veramente poco però è pure vero che è un prodotto che se lo tenete bene vi dura anche di più e solo questa mi è costata 12 euro e 90 quindi un botto di soldi come è fatta? è fatta in questo modo come potete vedere specchietto quindi questo dà la possibilità di potersi truccare direttamente utilizzando la palette 4 ombretti come potete vedere grandi più della mia unghia quindi comunque belli capienti come ombretti caccoline e poi devo dire la cosa comoda è che ve la potete portare in giro quindi sono comoda alla fine come palette però cosa c'è da dire? allora gli ombretti sono bellissimi e asciutti scrivono non tanto dovete dargli una mano bagnandoli però non sono da buttare asciutti la scrivenza è buona questi sono i colori e questi sono i swatch quindi alla fine la scrivenza c'è però vi ricordo che asciutti danno quello che danno giusto il viola perché è più scuro e il bianco danno molto molto di più quindi vi ritrovate che il prodotto ce l'avete più sulle dita che vi ritrovate più il prodotto sulle dita che in faccia però penso che da una parte è pure meglio vi spiego non tante persone si truccano con quel prodotto quindi da una parte è buona perché potete fare dei trucchi leggeri se volete degli smuchi leggeri oppure tipo il make up che porto io lo potete fare anche molto molto più leggero io li ho utilizzati tutti i bagnati bagnati hanno un altro effetto e sono molto molto più belli ragazzi cioè non c'è non c'è che dire però io penso che questa è una scelta che ogni persona deve fare con se stessa cosa altro ho preso il metal light eyeliner uno red berry allora questa è la scatolina interna e questo è l'eliner ora vi dico che il prodotto sta tutto qui quindi già a vederlo uno direbbe tutto qui per 7 euro sì in effetti per 7 euro è un po' troppo però cosa c'è da dire di questi eyeliner almeno per questo che ho provato io questo che ho preso io l'ho preso perché sapevo che lo faceva uscire la Too Faced poi quando l'ho visto della Kiko l'ho preso della Kiko perché perché questo della Kiko a differenza di quelli che usciranno della Too Faced almeno so sono glitterati e mi piaceva molto molto di più come si presenta si presenta che ha un pennellino così a felcro questo è il vasettino e questa è la scrivenza allora è un pennello che vi aiuta a fare tracciati grossi tracciato più fino oppure cioè comunque scrivere scrive non c'è che dire e mi piace da morire lo volevo tantissimo un eyeliner così e mi ci sto divertendo tanto e sono veramente buoni dicono che sono eyeliner da agitare ma io ragazze non lo faccio per me vanno bene così la cosa buona è che dura 9 mesi spero lo vediate no non lo vedete dura 9 mesi però ragazzi secondo me 9 mesi manco vi ci arriva per quanto è poco perché vi dico subito che sono 2,5 ml allora questo è lo swatch guardate quanto è glitterato è veramente bello la scrivenza pure non è male cosa c'è da dire però il tracciato che vi da è un tracciato cioè scusate non il tracciato la colorazione che vi da è una colorazione rosa non intenso ma ma nemmeno troppo leggero questo perché vi da la possibilità di poter intensificare il colore come più volete allora questa cosa a me piace perché magari se un giorno mi va di avere un rosa più leggero mi basta fare un tracciato e si asciuga e poi sulla palpebra calcolate che la la presa è differente quindi qui sulla mano la vedete di più qui sull'occhio invece io ho notato che si asciuga ancora molto di più quindi diventa ancora più chiaro ma non tantissimo si vede comunque quindi se volete un colore molto molto più intenso dovete fare come minimo due tre passate questo per tanti magari è una cosa negativa perché comunque uno dice io non posso mettere il liner e aspettare che si asciughi per rimetterne di nuovo e per avere quel colore non ci spendevo 7 euro e allora me ne prendevo un altro però pensandoci ragazzi alla fine è molto buona come cosa perché sono i liner che si possono gestire e poter utilizzare in base alla loro gradazione di colore cosa vuol dire io già vi avrò caricato un tutorial di me che vi ho fatto la sfumatura degli liner vi metto il link qui se non l'avete visto ancora cioè io gioco molto con gli liner e gioco molto con i colori soprattutto e quando trovo degli liner buoni che posso utilizzarli fra di loro lo faccio ma quando trovo gli liner della stessa marca che comunque mi può dare ancora più risultati di colori mi piace molto molto questa cosa quindi posso fare una gradazione io per me questo è promossissimo ragazzi è un ottimo eyeliner anche se costa parecchio però è buonissimo mi piace tantissimo e secondo me valutate perché valgono veramente pur avendo il prezzo che hanno ultimo prodotto della collezione era i rossetti come sapete già ve l'avevo detto nella presentazione questo è il packaging del rossetto ed è di 2 grammi il rossetto e io ho preso il numero 4 purple sparkle è questo viola qui che a vederlo uno dice ma che mi metto a fare questo ragazzi non è questo viola intensissimo già ve l'ho detto vi faccio lo swatch questa è una passata quindi comunque già scrive questa qui è più passate e comunque non dà una coprenza così scura la texture è morbidissima molto morbida e non appiccicosa anche se sembra che può avere dei glitter non ci sono i glitter all'interno e io che vi dico ragazzi mi piacciono tantissime infatti uno di questo l'ho regalato pure a mia cugina perché veramente sono dei bei rossetti in realtà sono dei bei gloss hanno dei bei colori è vero a vederli uno dice si sono già visti però secondo me qualcosa di particolare c'è l'anno perché non sono già visti io almeno ci ho provato a pensare a che cosa li posso confrontare ma non vi dico che secondo me sono colori unici e veramente molto molto belli e ottima texture la tenuta è un gloss ragazzi alla fine non è tutto questo gloss la tenuta è buona però è normale quando mangiate o bevete un po' va via però ve lo consiglio è molto molto buono niente ragazzi questo era tutto il mio video review su questa collezione io spero vi sia interessata questa review visto che adesso l'ho fatta adesso a seguire il tutorial di questo look se ce la faccio cerco di mettere tutto insieme se no video separato va bene un bacione ragazze aspetto di sapere voi cosa ne pensate della collezione tutto quanto e vi rimando al blog mio vi metto il link qui del mio blog così magari se volete fare un salto forse avrò scritto già qualcosa di nuovo e niente vi mando un bacione al prossimo video ciao